La vita è in giugno, l'esigenza, la del giugno, la del giugno, la del giugno, la della del giugno, la della del giugno. Che ha saputo queste che ci dici? A stori fuggi a com'è, a voi? La famiglia, mi mettono di cadere, mi danno spiega, poi non è proprio reggire, a te non nemmeno. Sono figgere le città o gli aste? Pogliamo di sonovara o lì, famiglia. Sono santaesci gli aste. Prida! 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 Prida m'è olanda! Ah! Ma ora è soglia? No! Oh! Ah! Ci sono ricordi di tiche decorati o tiche? Io. Ma c'è... dipendeci fuori di celeste... a celeste... Dipendeci fuori. Ma stanno facendo anche i peperatici perché hanno fatto una tortilla della cama... Gli sono chiesti di solito? Si! Gli sono chiesti di solito di solito! Gli sono chiesti di solito! Ma la parte è abbandonata da solito! Ora, ora, ora. Cioè, ti chiedi? Sì, non c'è nessuno che vuoi. Ho fatto la mia mamma, io ho lavorato in Torino e in Medesipa. Ah, Medesipa. E io ho fatto la mia famiglia, ma non ho conto.